Oggi iniziamo finalmente a parlare di Football Manager 2025. Prima però ho delle cose da dirti su FM24. La prima è che questo titolo, insieme ad altri videogiochi per PC e non solo, li puoi trovare a un prezzo scontato, sempre sul sito di Niba. Numerose offerte su videogiochi, carte regallo e non solo. Tutto questo mi raccomando, per maggiori info, link in descrizione. La seconda notizia riguardante Football Manager 2024 è che tra qualche giorno, per la precisione, il 18 giugno, FM24 sarà finalmente disponibile sul PlayStation Plus. Questa ragazzi è una notiziona, è una grande notizia, soprattutto per quelle persone che hanno sempre temporeggiato, dubitato e inizialmente bocciato il titolo FM24 su console. Anche perché, parliamoci chiaro, la versione console non ha nulla a che vedere con la versione PC, ma la cosa che dà abbastanza fastidio è che il prezzo della versione console non è praticamente diverso da quella del PC, pur comunque presentando, come ho detto poco fa, delle importanti differenze. E giustamente le persone si informano prima di acquistare, guardano, fanno un confronto, un paragone tra la versione PC e la versione console, notano diversi limiti e numerose differenze e giustamente hanno deciso, insomma, di non acquistare il prodotto. Però adesso che è su PlayStation Plus, ragazzi, mi raccomando, se siete da console, non avete mai provato Football Manager, non avete un PC in grado di supportare FM, fatelo, mi raccomando, giocatelo, perché almeno un'occasione a questo fantastico videogioco va assolutamente data. Football Manager 2025, here we go! Chissà, magari avremo anche Fabrizio Romano all'interno della prossima edizione di Football Manager. Oggi parliamo non solo di notizie ufficiali, che sono alla fine solamente due, logo e nuove licenze, ma volevo teorizzare, volevo condividere con voi delle mie teorie, delle mie riflessioni su quello che ho avuto modo, così, di vedere in questi giorni tra i vari social e i vari siti riguardo, appunto, Football Manager 2025. Però direi di andare con ordine e di soffermarci sulla prima notizia, sul primo grande e importante cambiamento, che è quello del logo. Facciamo un passo indietro. Un anno fa, di questi tempi, stavamo commentando, sia in live che qui su YouTube, gli annunci da parte di Sport Interactive, riguardanti proprio FM25. Il primo ha subito diversi invii, doveva uscire due anni fa, doveva uscire l'anno scorso, invece sarà presente, nel turno di FM25, il calcio femminile, quindi si potranno allenare le squadre femminili di diversi campionati. La seconda è una conseguenza dell'ingresso del calcio femminile, trattandosi comunque di differenze tra uomo e dono e livello anche di struttura, di movimenti e tutto, ci sarà anche un nuovo motore grafico, perché FM dalla prossima edizione si affiderà a Unity come nuovo engine. E questo porterà una nuova veste grafica, un'interfaccia utente rinnovata e animazioni avanzate si pensa, si spera, sempre più vicini a quelle reali. Siamo onesti, un po' ce l'aspettavamo questo cambio logo. L'ultimo importante cambiamento risale dall'edizione di FM18 a FM19 e per l'appunto seguirono tutti i cambiamenti citati, l'interfaccia utente rinnovata, una nuova veste grafica e delle animazioni più avanzate. Dall'edizione 2019 all'edizione 2024 il motore grafico è sempre stato lo stesso. La veste grafica non è cambiata più di tanto, l'interfaccia utente è rimasta abbastanza simile, solo le animazioni sono quelle che in questi anni oggettivamente sono cambiate e direi anche nettamente migliorate. Il nuovo logo di Football Manager non porta solamente il cameo del font, ma notiamo anche un piccolo ma importante dettaglio. La presenza dell'area tecnica. Quella zona di campo dove banalmente abbiamo la panchina con calciatori e staff e soprattutto la presenza dell'allenatore. Un'area, una zona non pienamente supportata dagli allenatori di Serie A perché molto spesso li vediamo fuori all'interno di quest'area e teoricamente per regolamento dovrebbero stare proprio all'interno di questo rettangolo. Ma cosa rappresenta l'area tecnica legata al logo di Football Manager? Io ho due teorie a riguardo. La prima mi spaventa non poco, spero assolutamente di essere al più presto smentito perché non mi piacerebbe una novità del genere legata a Football Manager che in realtà abbiamo già avuto modo di vedere in questa edizione, nell'edizione 24, su eSports FC e mi sto riferendo alla visuale in prima persona dalla panchina, da bordo campo. Su eSports FC da questa edizione nella modalità allenatore tu puoi vedere, assistere in prima persona alla partita senza giocare ma comunque potendo dare istruzioni da bordo campo e gestire poi quelli che sono i cambi da fare nel corso del match. esattamente come su Football Manager. Visto che su Football Manager 2025 ci sarà l'ingresso di un nuovo motore grafico magari tutto questo potrebbe portare a una visuale del genere ma spero di sbagliarmi perché non è questa la direzione che deve prendere il gioco ci sono tanti miglioramenti che il gioco deve fare ci sono tantissime altre priorità. E qui mi collego a un desiderio di Razeft un utente, un ragazzo che mi segue sul canale Viola che condivido a pieno ovvero quello di gestire meglio quelle che sono le responsabilità poi all'interno del gioco come stiamo facendo nella Cermel Mode ma come ogni tanto facciamo anche in altre carriere sia private che portate appunto in live o qui su YouTube la gestione delle responsabilità ci permette di dare certe mansioni affidare certe responsabilità a determinati elementi dello staff rinnovi i contratti cessioni acquisti gestione degli elementi delle conferenze stampa e tanti altri aspetti il problema però qual è? è che alla fine a prescindere da tutto è sempre colpa dell'allenatore e uno dirà beh anche nella realtà è così molto spesso il primo ad essere accusato è l'allenatore però sinceramente trovo poco realistico una trattativa di contratto fallita tra calciatore e direttore sportivo e poi il calciatore va a lamentarsi con l'allenatore intanto sono dell'idea che un contratto di un calciatore non debba essere minimamente gestito da un allenatore ma bensì da direttore sportivo e poi tutte le altre figure all'interno della dirigenza la gestione dei contratti è solamente un esempio avrei anche da ridire riguardo il calciomercato sia in entrata che in uscita determinate operazioni di mercato possono portare degli elogi da parte della dirigenza complimentandosi dell'operazione fatta ma in altri casi può anche succedere il contrario forti critiche per la gestione di una determinata operazione ma se tutto questo non è stato gestito dall'allenatore diciamo che non ha senso ricevere quelle critiche io credo che la figura dell'allenatore deve essere giudicata solamente poi per quello che fa all'interno del campo per quello che magari dice in una conferenza quindi se la presenza dell'area tecnica nel logo di FM dovesse in qualche modo dare maggior risalto all'allenatore beh spero insomma vivamente di non rivivere le dinamiche che ormai vivo costantemente in queste ultime edizioni di FM spero ragazzi possiate sfruttare al meglio la sezione dei commenti perché secondo me può crearsi davvero una piacevole conversazione tra me e voi e tra voi in generale con le vostre teorie con i vostri pensieri riguardo la prossima edizione di FM passiamo adesso alla prossima notizia davvero molto positiva perché è ufficiale la Premier League è nuovo partner di Football Manager e su FM25 tutta la Premier League sarà completamente licenziata io già so che c'è perché sono anch'io quella tipologia di utente che da PC tutto fiero dice a me che mi importa tanto io nella mia edizione di FM ho tutte le divise tutti i loghi tutti i volti ho anche la skin bella magari fatta ad hoc quindi non mi importa di questa notizia hai ragione perché effettivamente più o meno anch'io la penso come te però per chi da console Nintendo Switch Xbox Playstation questa è una grande notizia perché come ben sappiamo su console il gioco non si può assolutamente moddare non si possono mettere file grafici non si possono mettere database non si possono modificare i nomi delle squadre quindi avere la possibilità di giocare con il Manchester United prendiamo proprio l'esempio di una squadra che in passato ha avuto non pochi problemi proprio con Football Manager e avere tutti i volti il logo le divise e non voglio sognare ma sogno lo stesso chissà magari anche una riproduzione dell'Old Trafford e non sarebbe affatto male in realtà le licenze di Football Manager non sono affatto poche sia tra singole squadre ma anche di campionati ad esempio non ci abbiamo fatto caso ma hanno la licenza del campionato Lettone o di quello dell'Olanda in Inghilterra ad esempio avevano praticamente quasi tutti i campionati proprio tranne la Premier League tralasciando tutti quelli che possono essere i vantaggi da un punto di vista grafico perché prendo per esempio la Bundesliga la cura di quella competizione di quella licenza in particolare nelle partite di Bundesliga come ad esempio anche nelle partite della Carabao Cup in Inghilterra l'introduzione al match la presentazione della formazione in la scoreboard è letteralmente identica a quella che vediamo nella realtà e questo ragazzi a prescindere dalla skin è un qualcosa che non si può andare a modificare quindi questo non cambia né da PC né da console però oltre ai vantaggi a livello visivo ci sono secondo me anche vantaggi molto interessanti proprio in game per le nostre partite e per i nostri salvataggi nel momento che si tratta poi di licenze ufficiali proprio da Sport Interactive secondo me sarà ulteriormente maggiore la cura nel dettaglio poi di tutte queste società di tutte le 20 squadre di Premier League e zitto zitto FM sta completando poi le licenze dei top 5 campionati europei perché dopo la Francia con la Ligue 1 in Germania la Bundesliga la più recente la Premier League in Inghilterra mancano solamente la Liga in Spagna e la Serie A in Italia però per il nostro campionato sinceramente non nutro grosse speranze dal momento che lo stiamo vedendo anche in altri titoli sia legati a Konami con i football che a EA con EA Sports FC è davvero molto molto complicato la gestione delle licenze del nostro campionato ok la licenza ufficiale della Premier League ok la presenza del nuovo logo ma sul profilo Instagram ufficiale di Football Manager ho fatto caso ho notato un piccolo dettaglio che potrebbe essere un piccolo spoiler della prossima edizione di Football Manager e qui ragazzi mi raccomando prendetela con le pinze non voglio avere responsabilità di ho detto cose no nulla di ufficiale è soltanto un mio pensiero una mia teoria e mi baso solamente da quello che appunto ho visto e che tra poco vi mostrerò sul profilo Instagram di Football Manager hanno voluto festeggiare la presenza della Premier League all'interno della prossima edizione di FM e fin qui tutto bene video simpatico ci sta carino divertente e tutto ma analizziamo bene quello che abbiamo visto in questi pochi secondi di video nel primo secondo di video si vedono due schermi ma neanche secondo davvero anche meno il primo schermo sarà poi protagonista del video dove lì poi ci sarà la ricerca della Premier League il secondo vediamo quello che secondo alcuni poteva sembrare una schermata di F25 ma la realtà è ben diversa si tratta semplicemente del sito della Premier League alle spalle del monitor diverse magliette tra quella di Football Manager e tra diverse squadre del calcio inglese in particolar modo della Premier League il dettaglio che più mi ha colpito lo si vede dopo qualche secondo ovvero l'arredamento alle spalle di uno dei membri di Sport Interactive dove notiamo la presenza di due ruoli tradotti in italiano il centrocampista di quantità e il regista arretrato e io qui dico una cosa in questi anni in quelle rare occasioni dove hanno mostrato gli studi a Londra di Sport Interactive l'arredamento molto spesso veniva modificato in base all'edizione del gioco non ha un arredamento fisso a ogni edizione gli studi vengono in qualche modo stravolti per diciamo entrare più nel mood della nuova edizione e io sinceramente in questi anni questa tipologia di arredamento questo sfondo che mostra due ruoli di una tattica un centrocampo a due con il centrocampista di quantità registrato e retrato sinceramente non l'avevo mai vista o è nuovo come arredamento come stampa o è molto vecchio e perché dico questo? Perché un altro dettaglio che mi fa sospettare di questo è la presenza dei pallini verdi i pallini la conoscenza del ruolo in quest'ultima edizione di FM con la skin base non è presente poi in realtà la possiamo tranquillamente mostrare tramite le skin e nessun problema tornano i pallini ma nella edizione normale del gioco la presenza del pallino non esiste nella schermata della tattica questo sicuramente per quest'ultima edizione e se non ricordo male anche in quella precedente anche nell'edizione del 2023 quindi o parliamo di uno sfondo lasciato lì da tantissimo tempo oppure potrebbe essere una sorta di mezzo spoiler dell'edizione 2025 e questo va a confermare due cose il ritorno dei pallini e la conferma dei ruoli diversi per ogni reparto io ero e sono tuttora un grande fan del ruolo neutro io sono dell'idea che questo gioco abbia troppi ruoli il ruolo attaccante non può avere sette ruoli diversi a mio modo di vedere ne bastano tre centravanti seconda punta e fulcro posso ancora ancora valutare l'idea del falso 9 però poi quando sento parlare di punta completa o addirittura dell'attaccante ruolo trequartista diciamo che impazzisco e questo mi capita anche con tantissimi altri ruoli di altri reparti ce ne sono secondo me veramente troppi sono invece un grande fan del ruolo neutro del ruolo che si può maggiormente personalizzare che in base al nostro archetto calcistico subisca appunto poi delle modifiche o delle istruzioni proprio precise ma che siamo noi allenatori a darle e non che siano già preimpostati di default e quindi cosa mi auguro che questo sia uno sfondo decisamente vecchio lasciato lì da anni e che ci mostri insomma questa presenza di due ruoli e magari stiamo parlando di edizioni davvero molto molto vecchie mi fa però appunto sospettare che sia nuovo perché ogni anno ogni qual volta Sport Interactive ci ha mostrato gli studi di Londra li abbiamo sempre visti con un arredamento diverso non sono mai stati uguali nel corso di queste ultime edizioni e quindi il sospetto che sia qualcosa legato a FM25 è davvero molto molto forte cosa ne pensate tutto questo ma soprattutto qual è il vostro desiderio più grande legato a Football Manager cosa vorreste vedere nella prossima edizione di FM fatemelo sapere qui sotto nei commenti e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video ciao a tutti 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 ciao a tutti